Per esempio, se sei... Relascendo il mio francese, ecco cosa abbiamo fatto a Parigi con L'Oreal Professionnel. Per prima esperienza di oggi siamo alla Vivatec. Qui L'Oreal Professionnel mi ha fatto vedere come sarei con i capelli rossi. E no, non fa per me. Mi hanno fatto creare il mio avatar. Io sono piena di lei. Per fare un bellissimo giro sulla Senna. La differenza tra me, Emily e Victoria... Noi siamo indicenti. Lei... Bosa 10, top. L'edizione francese per la quale sotto ogni ponte gli innamorati si devono baciare per contare quanti punti ci sono a Parigi. E ci siamo promesse un sacco di baci sotto ogni ponte. Fit check, prima cena a Parigi. Possiamo permettere il creme mule. Il capisce. All'interno dell'azienda ci hanno fatto fare delle attività tra queste. Ho provato dei prodotti nuovi su delle ciocche di capelli e sentito le nuove fragranze. Subito dopo siamo tornati in hotel per cambiarci al volo perché avevamo un'attività a tema futuristico. Qui stiamo facendo il fit check ma non eravamo da sole. Per la giornata di fettura si faranno i capelli. Utilizzano il loro Stimpod che è una piastra ma pure adesso vi faccio vedere la piega che mi fanno. Ovviamente onde e ora vi faccio vedere i risultati. Capelli incredibili realizzati con L'Oreal Professionnel con la Stimpod. Questo è il look di Alessia.